Va bene, allora, ah io vedo che abbiamo, abbiamo Dennis Verdini collegato o no? E' dentro un bar, che succede? Ludovica? Ludovica? No, questo è Pastation, è il ristorante proprio della famiglia Verdini, mi senti Mirta? Sì, lui è nel ristorante della famiglia Verdini? Sì, stiamo cercando di capire se esce, esatto, è della sua famiglia, è il suo ristorante. Ah, è il suo ristorante, va bene, se esce io ci parlo con piacere, sono una grande appassionata dei commenti politici di Verdini. Siamo arrivando ad aspettare che esca.